Buona domenica da Orazio Coclite che vi parla e da Michele Totaro, regista della trasmissione della Santa Messa, oggi in diretta dalla Concattedrale Santa Maria Assunta in Policastro Bussentino. Immersa nella verde vegetazione mediterranea, la cittadina è sovrastata dal monte Bulgaria, conosciuto come la Leonessa Addormentata, pronta a proteggere uno dei luoghi più belli del Cilento. Policastro, frazione di Santa Marina, sorge come colonia greca col nome di Pixunte. Dotata di una possente cinta muraria, i cui resti è possibile ammirare ancora oggi, diventa poi romana col nome di Buxentum. Nel VII secolo è sede di un castello bizantino e prende il nome di Policastro. Più volte saccheggiata e distrutta per la sua strategica posizione, rinasce sempre fortificata e ampliata. Chi visita il golfo di Policastro non può che rimanere affascinato dall'incantevole mare, dalla rigogliosa natura e dal suggestivo bacino del fiume Bussento, che disegna pennellate naturalistiche mozzafiato. E' un tratto della costiera cilentana, apprezzato dai turisti per la natura incontaminata e per la qualità delle acque di bagnazione. Nell'ultimo decennio il lungomare e il porto di Policastro hanno raggiunto una sempre maggiore sistemazione, alimentando l'economia basata sul turismo e sulla pesca. Numerose barche, recanti spesso immagini sacre, operano in un mare ricco e generoso. Nella seconda domenica di luglio viene celebrata la Domenica del Mare. Anche quest'anno vogliamo ricordare i marittimi e far conoscere il lavoro di tante persone che trascorrono buona parte della loro vita sulle navi. La storia racconta che gli assalti saraceni costringevano le popolazioni ad arroccarsi sulle colline e grazie all'opera dei monaci basiliani esse hanno imparato a trasformare le zone selvose in villaggi agricoli. Ancora oggi, a pochi metri dalla spiaggia, si trovano caratteristici orti coltivati da famiglie rimaste legate alla coltivazione della terra. Nel XIII secolo Policastro acquista prestigio grazie al rinnovamento spirituale operato da San Francesco d'Assisi. In quell'epoca sorgono vari conventi di frati minori e certamente uno dei primi è quello di Policastro riaperto nel 2016 dopo un imponente e attento restauro che ha riportato alla luce le decorazioni a stucco e gli affreschi che costituiscono elemento di ulteriore pregio dell'intero complesso architettonico. Al piano superiore vi è il museo degli artisti contemporanei del III millennio. Graziosi vicoli del centro storico conducono all'imponente complesso della concattedrale della diocesi di Tegiano Policastro e raggiungono la piazza principale del paese. La chiesa, di stile romanico, sorge su un antico tempio pagano e si presenta con una facciata semplice ed essenziale. Imponente è il campanile edificato intorno all'anno 1000. Nell'edicola a marmorea sopra il portale è raffigurata la vergine col bambino e un particolare dell'antica città di Policastro. E siamo all'interno. La pianta è di tipo basilicale con transetto sopraelevato. La cripta era la primitiva chiesa paleocristiana bizantina della città. Semicircolare, sorretta da 14 colonne di diversa fattura. Custodisce un affresco trecentesco raffigurante la pietà. Qui è sepolto l'ultimo vescovo di Policastro, Monsignor Federico Pezzullo. In questa quattordicesima domenica del tempo ordinario, Matteo ci presenta un Gesù benedicente. Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Gesù, mite e umile di cuore, in questa pagina del Vangelo canta un inno di lode a Dio per il suo progetto di bene sull'umanità. La sua gratitudine si contrappone alla superbia di chi non sa farsi piccolo e non è capace di aprire il cuore al Messia. Chiudersi al Vangelo e chiudere il cuore e i doni divini. Riponiamo allora in Lui la nostra fiducia. Facciamoci piccoli. Lasciamo che la Sua parola ci ristori. Lodate Dio, spiebre a te del cielo. Lodate Dio, genni di tutta la terra. Cantate a Lui. Presiede l'Eucaristia Monsignora Antonio di Luca. Vescovo di Tegiano Policastro. Celebrano con lui Don Antonino Savino, parroco della Concattedrale, Don Mario Rocco e altri sacerdoti. Il servizio liturgico è prestato dai ministranti della Concattedrale, guidati da Massimo Lacorte. I canti sono eseguiti dal coro della Concattedrale, diretti dal maestro Andrea Timuleone. All'organo il maestro Pascal Mascaro. cantate a Lui che tanto gli uomini amò, da dare l'unico figlio. a Lui che tanto gli uomini, Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Fratelli carissimi, nel giorno del Signore ci presentiamo al Padre con le nostre gioie, ma anche con le nostre fatiche e le nostre sofferenze. In comunione con i nostri fratelli, anziani, ammalati, soli, che si uniscono alla celebrazione attraverso la televisione, affidiamo tutta la nostra vita al Signore Gesù, nel quale possiamo trovare pace e riposo. Con umiltà riconosciamo le nostre debolezze, le nostre lentezze, i nostri peccati, per poter celebrare degnamente l'Eucaristia Domenicale. Confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, semprevergine Maria, gli Angeli, i Santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria, gloria, in eccelsis Deo, gloria, gloria, in eccelsis Deo. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria, gloria, in eccelsis Deo, gloria, gloria, in eccelsis Deo. Signore, figlio di Gesù Cristo, signore Dio e Mielo di Dio, figlio del Padre, Tu che doli i peccati del mondo, abri misericordia di noi. Tu che doli i peccati del mondo, accorgi la nostra supplicata. Tu che siete alla destra del Padre, abri misericordia di noi. Gloria, 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 in eccelsis Deo. Perché tu solo sei il Santo, tu solo sei il Signore, tu solo l'altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amén. Gloria, gloria, in eccelsis Deo. Gloria, gloria, in eccelsis Deo. Preghiamo. O Dio che ti riveli ai piccoli e doni ai miti l'eredità del tuo regno, rendici poveri, liberi ed esultanti, a imitazione di Cristo tuo Figlio, per portare con Lui il gioco soave della croce e annunziare agli uomini la gioia che viene da te. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amén. Dal libro del profeta Zaccaria. Così dice il Signore. Il Signore sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni, il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai confini della terra. Parola di Dio. Veniamo, grazie a Dio. Il Signore sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni, il suo dominio sarà da mare e dal fiume fino ai confini della terra. O Dio, mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Venirò il tuo nome in eterno e per sempre, Signore. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore, buono è il Signore verso tutti. La sua tenerezza si espande su tutte le creature. Reggirò il tuo nome per sempre, Signore. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere, ti benedicano i tuoi fedeli, dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. Venerò il tuo nome per sempre, Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così, dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne, per vivere secondo i desideri carnali, perché, se vivete secondo la carne, morirete. Se invece, mediante lo Spirito, fate morire le opere del corpo, vivrete. Parola di Dio. Veniamo, grazie a Dio. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. In quel tempo Gesù disse Ti rentolode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti, e le hai rivelate ai piccoli, sio Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio Nessuno conosce il Figlio se non il Padre Nessuno conosce il Padre se non il Figlio E colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi E io vi darò ristoro Prendete il mio gioco sopra di voi E imparate da me che sono mite umile di cuore E troverete ristoro per la vostra vita Il mio gioco in vatti è dolce E il mio peso leggero Parola del Signore Glorie a te, oh Cristo Fratelli e sorelle La parola di Dio Che la Chiesa ci propone in questa domenica Pasqua della settimana Ruota intorno al tema dell'umiltà Parola desueta Pratica virtuosa Impopolare Forse persino rinnegata La stessa umiltà Esaltata dal profeta Zaccaria Nella figura del Re Messia Che entra trionfante in Gerusalemme Cavalcando un puledro Figlio d'Asina Egli è un Re giusto Vittorioso Umile Pacifico Differente dagli altri tiranni Ingiusti e superbi Quel Re giusto È prefigurazione Di Gesù Cristo Anche Lui Entrerà Su un'Asina Umile In Gerusalemme Un ingresso messianico In umiltà Questa è la spiritualità Che segna Tutta la vicenda del Reina Del Figlio di Dio Fatto uomo Una storia Di abbassamento Dal seno del Padre Fino all'estrema umiltà Della Croce Per raggiungere ogni uomo Il più semplice Il più ultimo Il più abbandonato Il più straniero Ed è in questa Domenica Che l'umiltà Di Cristo Gesù Interroga Interpella Tutta la nostra umanità Nel pieno fallimento Della sua predicazione Di fronte alle folle Che dopo Uno slancio Iniziale Cominciano a non ascoltarlo È il momento Delle porte chiuse Dei cuori Sbrancati Gesù Finalmente avverte Il bisogno Di un sussulto Di ringraziamento Al Padre Ti rendo lode Padre Signore del Cielo E della Terra Perché tu hai nascosto Queste cose Ai sapienti Ai dotti Ai potenti E invece Le hai rivelate Ai piccoli Un momento Di grande intensità Di tutto il Vangelo Non i dotti Non i sapienti Sanno cogliere Il dono di Dio Ma i piccoli Che sono Coloro che sono I vulnerabili I disprezzabili Agli occhi del mondo Sono quelli Che il Padre ama Predilige All'oro Dio destina Il suo amore E i piccoli Non sono tali Anagraficamente Non sono solo I bambini I piccoli Secondo il Vangelo Sono gli umili Quelli che non hanno Richieste Eccessive Per se stessi Non pretendono Nulla Che vivono Serenamente La loro condizione Umana Creaturale Mortale Una delle tentazioni A cui è sottoposto L'uomo E quella insidiosa Di credere Che può tutto E che tutto È sotto il suo controllo L'uomo Nella sua superbia Tenta Di mettere le mani Sulla vita Sulla famiglia Sulla solidarietà Sulla identità L'esperienza L'esperienza di fede È sempre Un'esperienza Di umiltà Che si affida E solo i piccoli Sanno fidarsi E affidarsi Solo gli umili Hanno quella povertà Di spirito Che permette loro Attraverso l'ascolto Di possedere i misteri Del regno di Dio Già qui Sulla terra A riguardo Poche settimane fa Papa Francesco In una omelia Santa Marta Diceva Se tu vuoi capire qualcosa Del mistero di Gesù Abbassati Fatti piccolo Perché il Signore Si è innamorato Della nostra piccolezza Sofferenza Stanchezza E qualche altro scrittore Diceva Dio Si impara In ginocchio Dio Si incontra Stando in ginocchio Gesù È venuto Per la liberazione Dell'uomo E di tutto l'uomo Dagli schemi rigidi Di una religiosità Che può diventare Solo esteriore Il suo gioco È l'alternativa Dolce e piena Di speranza Al rigido attaccamento Formale Dei sapienti Di questo mondo Nella vita Dell'uomo Si annida Troppo spesso Il disorientamento La perdita Di punti di riferimento La stanchezza La fatica L'oppressione Rendono l'uomo Di oggi Sempre più Smarrito E confuso Sui grandi temi Del nuovo umanismo Ad ogni uomo È rivolto L'invito Del Signore Gesù Ad andare Da Lui Conservando La certezza Che In Lui Con Lui Troveremo Ristoro E sollievo L'umiltà cristiana Non è remissiva Pratica di vita Né rassegnata Sottomissione Alla ineluttibilità Del male Che è nel mondo L'umiltà Dice all'uomo La sua provenienza Dalla terra E tuttavia Indica L'humus Che raccoglie In sé Una molteplicità Di elementi Generativi Capaci Di far germogliare Ogni vita Pertanto L'umiltà Cristiana È creatività Generosità Oblatività Disposizione Interiore A rendere La croce Percorso Di salvezza Questa pagina Di Vangelo Oggi Ci chiede Di metterci Come piccoli Dinanzi a Dio Come Chi da Lui Ha tutto Da imparare Ci chiede Di percorrere Lo stesso cammino Di umiltà Compiuto dal figlio Di Dio Fatto uomo Perché è proprio Nell'abbassarsi Che sta All'altezza massima Dell'essere cristiano C'è quindi Un gioco Di cui caricarsi Il suo Dolce Per i miti E gli umili Di cuore Dal peso Leggero Perché ogni giorno Sceglie Di imparare Da Lui L'arte Del vivere E di Amare Imparando Da Cristo L'umiltà Riscopriremo Il vero volto Di Dio E sapremo Dargli Il giusto Primato Nelle nostre scelte Nelle nostre storie Per abbandonare I desideri Della carne E vivere Da uomini Liberi Sotto L'azione Dello Spirito Santo Amen Rinnoviamo La nostra fede Credo In un solo Dio Padre Unipotente Creatore Del cielo E della terra Di tutte le cose Visibili E invisibili Credo In un solo Signore Gesù Cristo Unigenito Figlio di Dio Nato dal Padre Prima di tutti i secoli Dio Radio Con luce E la luce Piovera Del Dio Rego Generato E non creato Dalla stessa Sostanza Del Padre Per mezzo Di Lui Tutte le cose Sono state Create Per noi Uomini E per la nostra Salvezza Discesa Dal cielo E per opera Dello Spirito Santo Si è incarnato In la sede Della Vergine Maria Che ci ha servato L'uomo Uno ci visse Per noi Sotto Conso Unilato Morì E unise Volto E il terzo Giove E risuscitato Secondo Le scritture E salito Al cielo Sieda Dalla Nesta Del Padre E di nuovo Verrà Nella Gloria Per giudicare I figli E morti E il suo Regno Non avrà La fine Credo Nello Spirito Santo Che il Signore Dà La vita E procede Dal padre E dal figlio E con il mare Il figlio Allorato E glorificato E ha parlato Per mezzo Dei profeti Credo La chiesa Una Santa Cattolica Apostolica Professo Un solo Tattesimo Per perdono I peccati E aspetto La risurrezione Dei morti E la vita Del mondo Che verrà Carissimi Come i discepoli Del Vangelo Con cuore Umile Rivolgiamo Al padre Le nostre Invocazioni Preghiamo Insieme Dicendo O Dio Nostra Speranza Ascoltaci O Dio Nostra Speranza Ascoltaci Benedetto Sei tu O padre Per la chiesa Che annuncia La tua parola Fa che Conservi La buona Notizia Del Vangelo E la porti A tutti Gli uomini Noi ti Preghiamo O Dio Nostra Speranza Ascoltaci Benedetto Sei tu O padre Per i piccoli E i poveri Gli emarginati E gli esclusi Coprili Con la tua Protezione E difendili Da ogni male Noi ti Preghiamo O Dio Nostra Speranza Ascoltaci Benedetto Sei tu O padre Per quanti Con la loro Presenza La capacità Di ascoltare Il sorriso E la tenerezza Testimoniano Il tuo amore Tra coloro Che sono affaticati Ed oppressi Sostienili E guidali In ogni istante Della loro vita Noi ti preghiamo O Dio O Dio O Dio Nostra Speranza Ascoltaci Benedetto Sei tu O padre Per i doni Meravegliosi Che ci fai Nella creazione Donaci Di contribuire Alla costruzione Del mondo Più giusto Siamo sempre Sempre più operatori Di pace Noi ti preghiamo O Signore Che apprezzi Un cuore Umile Semplice Accoglie La povertà Delle nostre Preghiere E donaci Di trovare In te Consolazione E speranza Per Cristo Nostro Signore Amen Buono è il Signore Verso tutti La sua tenerezza Si espande Su tutte le creature Con le parole Del Salmo Celebriamo La salvezza Del Signore Lodiamo La sua grandezza E le sue opere Ma soprattutto La sua bontà E la sua misericordia I ritmi frenetici Del mondo di oggi Catturano I nostri spazi Ma tu Signore Ci insegni Che il tempo È superiore Allo spazio Scriveva François Garagnone In un suo libro Bisogna stare attenti A non guardarsi Sempre indietro A non soffermarsi Sulle contrarietà Del momento Ma a tenere In considerazione Le cose belle Buone Che ci sono riservate Le quali Non attendono altro Che la nostra Amorosa attenzione Per rivelarsi Molti avvenimenti Sembrano Voler togliere La gioia E la serenità Ma la certezza Del tuo amore Il tuo amore Signore Ci dona pace Mentre il mondo Ci vuole cacciatore Tu O padre Ci inviti ad essere Come agricoltore Che si prendono Cura della terra Materie prime Come il grano E l'uva Crescono sotto il cielo E sotto il sole Basi fecunde Basi fecunde Che trasformate Dalle nostre mani Diventano pane e vino Che offriamo a te Signore Che sei Pane della vita Bevanda di salvezza Benedetto sei tu Signore Benedetto è tuo Santo nome Alleluia Alleluia Tu hai fatto il cielo E la terra Dio grande Dio eccesso Tu è potente Benedetto sei tu Benedetto sei tu Signore Benedetto è tuo Santo nome Alleluia Alleluia Pregate Perché questa nostra famiglia Radunata nel nome di Cristo Possa offrire il sacrificio Gradito a Dio Padre Onnipotente Signore 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 Si purifichi Signore Questa offerta che consacriamo al Tuo nome e ci conduca di giorno in giorno a esprimere in noi la vita nuova di Cristo, Tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. E' veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere è fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della Tua immensa gloria quando hai mandato Tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In Lui, nuova Damo, hai redento l'umanità decaduta e con la Sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di Lui si alletano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del Tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, 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 il Signore, Dio dell'Universo, Dio dell'Universo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. In remissione dei peccati, fate questo in memoria di me. Grazie a tutti. 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 Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e dona le unità e pace. Grazie a tutti. 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 Continua a tutti. Grazie 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 a tutti.